ciao bambini oggi è la festa del papà e allora la maestra chicca ha pensato di leggere una bella storiella e potete ascoltarla assieme al vostro papà il libro si chiama il mio papà mi vuole bene papà mi vuole bene io lo so mi insegna a essere coraggioso anche quando mi viene da piangere papà mi vuole bene io lo so mi insegna a provare cose nuove anche quando credo di non riuscirci papà mi vuole bene io lo so mi insegna a condividere anche quando potrai tenere tutto per me papà mi vuole bene io lo so mi insegna a non mollare anche quando vorrei arrendermi papà mi vuole bene io lo so mi insegna ad amare e lo fa con il suo esempio ecco buona festa del papà a tutti ciao